45. Attacchi di panico I miei attacchi di panico non mollano mai e le mie ansie notturne non mi abbandonano. Non mi sento tranquilla nemmeno a casa. Dormo con una mazza da baseball sotto il cuscino e nella borsa ho sempre una forbice. Commento L'evoluzione è insufficiente, non molla mai la presa fino a quando il vuoto interiore non si è colmato e come con gli attacchi di panico.